bell'alti ragazzi sono shoxos26 e oggi siamo su overwatch come vedete è aggiunto l'aggiornamento di halloween cioè 23 giorni fa 24 comunque in questo video andremo a fare una chateau guillard completamente alluminizzata che sembra più il castello di dracula ma dettagli in questo episodio andrò a usare moira la mia amata moirina e poi il prossimo forse venerdì 76 adesso vediamo un po come va eccola qua chateau guillard eccola qui mia banshee delle patatine fritte vediamo di distruggere qua ciao anzo sei immobile quanto vedo oh porco zeus muori ma una lotta tra moira posso aggiungerci anch'io vai via servirebbe il globo delle cure ok per spazio ciao gian cratino scusa gian cratino lotta fra moira le adoro muori quante moira ci sono crepa 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 sicc'è 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 ciao zombie chiunque tu sia muori bene oddio qualcuno si è messo un tank ed è un rodo poi i dettagli ciao zombie mi chiesto lo grattavi ti odiavo a morte rodov questo qua è un nemico difficile da battere con moira ci fa solo 10 di danno al secondo quindi potete preoccupare crepa tu dai 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 oh porco spino grande brigitte ah no pensavo che non riusciva a prendermi Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap no mia cara muori sono prima in classifica non me ne sono manco accorto vabbè per parte sono una moira no me la lontano da lei subito brighi perché non muori mia cara mezzogiorno di fuoco ok fuori uno zebolliamo gli altri grandi oggi lo togliamo no aveva uno sputo di vita dannazione oh signorino no si è curato sto bastardo oddio no come ne vado ciao che cazzo vuoi tu vantene via repa 5 uccisioni rimaste muori morite tutti due dai crepa che tu crepa bastardo come ho di rubarmi la kill bastardo vabbè non avevo neanche un'abilità dai ultima kill devo ucciderlo con stile 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 ha 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 volevi uccidervi bastardo eh crepa prendo sperle nelle chiappe play of the game l'ho fatta io tutto mettetevi al mio volere cos'era questo ah si ho fatto la tripla di prima cioè la mia palla ha fatto la play of the game vabbè ragazzi ci vediamo al secondo round bene eccoci qua c'è tu che andremo a usare stavolta? tra soldato e ripper vada per ripper dai troveremo di sicuro 3000 tank dopo quella partita con moira perché ovviamente entro dei mccree un anzo era ovvio che c'era un anzo muori bastardo come ho giurrbato le kill mi hanno giurrbato la kill moira 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 dopo la Widowmaker e non muore perché ho i colpi di un fagiano morto chi c'è? pam 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 eh ma come? senti Widowmaker hai rotto le scatole eh tre ma la white la ciccione si vabbè Widowmaker tre Widowmaker quante Widowmaker ci sono? è il festival delle Widowmaker è anche un anzo adesso ti ci metti mio caro muori oh da notare che le prime tre sono tutte Widowmaker perché sono delle brave ragazze sono e ti rompi coglioni crepa ecco dai cambiamo su perché quelle Widowmaker rompono troppo le scatole ci serve un personaggio che le faccia distruggere ecco muori crepa chi è il prossimo? la fammi curare guardala quella Widow di merda donna eh vabbè tu va a fare giro giro tondo con me ho sbagliato ecco si vabbè 17 di vita questo è per avermi ucciso una volta bastarda l'hanno reworkata comunque fara perché non l'avevo mai vista con colpi così crepa madonna eh dai dopo ho fatto la ho fatto la volta che ammazzano sempre i cecchini ma cos'è sta mania dei cecchini guarda sono obeso scendi no come è fatto senti Widow hai rotto i coglioni hai rotto i coglioni muori flonze stronz dai su 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 crepa e va io odio i cecchini che loro rubano le kill e basta muori arvest che arvest ho io dai per due kill però comunque ho sbaragliato però sono arrivato secondo e ovviamente flonze ha fatto la plebote perché lui è un cecchino di merda vabbè vediamo cosa ha fatto uno due tre e poi viene ucciso da un altro cecchino come è successo a me che anch'io ho fatto una doppia con la ultra chi mi ammazza manco lanzo bambalone patata prima di concludere scusatevi apriamo l'ultimo apriamo il baule di Halloween che ho sbloccato arrivando secondo con con risciato Gugliard uh che sbloccato ah le motto di Winston che bella quasi quasi la metto perché capriola dopo un po' stufa comunque ragazzi da questo è tutto spero che vi sia piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale e alla prossima bella